Un nuovo annuncio di lavoro pubblicato da Sucker Punch, lo studio creatore di Infamous e dell'avventura di Jin Sakai ambientata nell'isola di Tsushima, potrebbe aver fornito degli ulteriori indizi sullo sviluppo di Ghost of Tsushima 2. Prima di proseguire, come di consueto, vi suggeriamo di iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto di EveryEye.it. Pochi mesi fa, il collettivo statunitense appartenente alla famiglia dei PlayStation Studios ha annunciato di essere alla ricerca di due figure professionali. Parliamo di un Senior Combat Designer e di un Technical Combat Designer, e ancor più nello specifico, con una certa esperienza col sistema di combattimento del primo Ghost of Tsushima. Adesso i creatori di Sly Cooper sono alla ricerca di un altro professionista, che una volta entrato in squadra assumerà il ruolo di Encounter Designer. Questa figura non solo dovrà avere una comprovata esperienza nello sviluppo di titoli AAA, ma anche una viva passione nella realizzazione di sfide in grado di spingere i giocatori a superare i propri limiti. Il nuovo addetto ai lavori parteciperà non solo alla creazione del combat design, ma anche alla caratterizzazione ludica dei nemici. Ecco perché Sucker Punch cerca un esperto della ricetta action con scontri all'arma bianca e stealth. Nell'annuncio si fa espresso riferimento alla natura open world della produzione, con un'ulteriore precisazione che ha giustamente gettato in subbuglio la community. Il candidato più indicato infatti dovrebbe avere la predisposizione a lavorare a stretto contatto con ninja in altri settori. Sono insomma alte le possibilità che queste richieste così peculiari siano in realtà connesse alla gestazione di Ghost of Tsushima 2, o quantomeno di un titolo ambientato nel medesimo universo ma in un altro periodo storico o luogo del Giappone. Lo stile di combattimento del nuovo protagonista, stando a quanto riportato nell'annuncio, potrebbe essere basato proprio su particolari tecniche del mondo ninja, che non vediamo l'ora di vedere in azione. Prima di salutarvi vi lasciamo la parola. Che cosa ne pensate delle caratteristiche indicate da Sucker Punch per l'assunzione dell'encounter designer? Vorreste giocare a un sequel di Ghost of Tsushima? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti